A cercare il quadrato! Sè! 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 C'è Di Bala profonda, Alessandra che sta arrivando Di Bala. Di Bala! SIIIIIII Sì! Dalla parte sinistra,w者END GAR میںötit MAZUCHICH- Mezzogic Mezzogic Sì 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 Tutti a casa Tutti a casa Tutti a casa Salta adesso Paolo Sousa Salta adesso Paolo Sousa Salta adesso Paolo Sousa Salta adesso Paolo Sousa Di bala Di bala Di bala Salta adesso Paolo Sousa Salta adesso Paolo Sousa Fratelli e sorelle Juventus batte Fiorentina 3 a 1 Una vittoria assolutamente strameritata e voluta, volutissima, fortemente voluta dalla nostra Juventus A parte il discutibilissimo rigore del discutibilissimo orsato Al minuto numero 3 è stato l'unico tiro in porta che abbiamo concesso alla Fiorentina Per il resto la Juventus Buffon ha rischiato praticamente nulla in difesa Super Gigione se ne torna a casa con i guantoni intonsi Nessun altro pericolo Abbiamo concesso il giropalla alla Fiorentina E ci siamo affilati a quello che oramai è diventato il nostro marchio di fabbrica Ovvero le ripartenze È stata una partita molto bella nel primo tempo C'è stata una grande intensità È una Juventus che comunque fisicamente sta molto bene Poi nella ripresa, come detto, abbiamo saputo aspettare Abbiamo saputo attendere E proprio sulle due ripartenze micidiali Al minuto numero 80 Innescata da Pogba Che è vero, sarà Gigione Ma poi quando è concreto disegna calcio come pochi in Europa Mette Di Bala davanti a Tatarushanu E Manzukic ribadisce il rete Al minuto numero 80 E poi al 92 Altra ripartenza della Juve Di Bala è un cecchino spietatissimo E in fila Tatarushanu per il 3 a 1 finale È una Juve che non solo è tornata Ma c'ha anche tanta tanta cazzo di fame E quindi continuate a preoccuparvi Continuate a cagarvi sotto E soprattutto Come già vi ho detto Non mettete via il Malox Plus Per carità L'avete già messo via? Avete fatto purtroppo male? È troppo presto Bene Quarto posto Scavalcata la Roma Sesta vittoria consecutiva Io per stasera la chiudo qua Non prima di aver salutato Il fratello bianconero Milo Milosevic Di Facebook Ciao Milo Gliel'ho promesso Una grande Juve Adesso sotto con la Coppa Italia Mercoledì C'è in Torino Vogliamo i quarti di finale Vi saluto a tutti Un grande abbraccio Dal vostro Dario Ruiz The Postman Al prossimo video E come sempre Più di sempre Fino alla fine Forza Juve Salti Paolo Sosa Non salti Ciao